E devo quindi abbassare il mio io, perché se io voglio far intervenire il Signore nella mia vita e siamo allo stesso livello, non può andare bene. C'è un combattimento. Se Lui è sotto di me, sono come i farisei e li scrivi. Parlo tanto, prego tanto, ma non metto in pratica. E allora devo innalzare Dio sopra ogni altro nome. Ecco l'invito a umiliarsi, che significa abbassarsi, che significa innalzare il nome di Dio, il nome di Gesù, dargli spazio, fare spazio a Lui, cari amici. Non gode della nostra umiliazione, ma Lui sa ciò di cui tu hai bisogno, perché conosce il tuo cuore, lo ha creato Lui e ti ama tanto. Ecco perché dobbiamo umiliarci, abbassarci, perché quando innalziamo Lui siamo pienamente realizzati. Chi si umilia sarà esaltato.